Twitch Prime non mi fa abbonare. Ciao a tutti. Se state guardando questo video, probabilmente avete avuto problemi ad abbonarvi a Twitch Prime e siete alla ricerca di una soluzione. Non preoccupatevi, siete nel posto giusto. Twitch Prime offre numerosi vantaggi, come l'accesso a giochi gratuiti, contenuti scaricabili, emote speciali e un abbonamento gratuito al canale ogni mese. Tuttavia, se non riuscite ad abbonarvi, potreste perdere l'accesso a tutti questi benefici. Ma non temete, ci sono alcune soluzioni semplici per risolvere questo problema. Innanzitutto, assicuratevi di avere un abbonamento Amazon Prime attivo. Twitch Prime è incluso gratuitamente con l'abbonamento ad Amazon Prime, quindi se non siete abbonati, potrebbe essere il momento di farlo. Inoltre, assicuratevi che il vostro account Twitch sia collegato correttamente all'account Amazon Prime. A volte i problemi di abbonamento si verificano perché i due account non sono sincronizzati correttamente. Se avete già verificato che tutto sia collegato correttamente, potrebbe essere utile contattare il supporto tecnico di Twitch. In questo modo, potranno aiutare a risolvere il problema e trovare una soluzione personalizzata per voi. In ogni caso, non arrendetevi. Twitch Prime offre molti vantaggi e benefici, quindi vale la pena risolvere qualsiasi problema di abbonamento. Speriamo che queste informazioni vi siano state utili per risolvere il problema di abbonamento a Twitch Prime. Se avete ancora problemi, non esitate a contattare il supporto tecnico di Twitch per ulteriore assistenza. Grazie per aver guardato questo video e buona fortuna con il vostro abbonamento a Twitch Prime. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale, non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.